Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento sulle novità dell'ultima legge finanziaria. Io sono Riccardo Allievi, sono un dottore commercialista, sono uno dei titolari dello studio Allievi. Ho già registrato altre puntate di questa serie che trovi nella nostra pagina Facebook o nel nostro canale YouTube in cui ti ho spiegato quali sono le novità introdotte dalla legge finanziaria 2018 che è stata approvata alla fine dello scorso anno, delle novità come ogni anno interessanti dal punto di vista fiscale e delle novità che possono permetterti dei risparmi importanti dal punto di vista delle imposte da pagare sul reddito. Oggi nello specifico volevo parlarti del bonus degli strumenti musicali. Di cosa sto parlando? Sto parlando di un bonus che in realtà esisteva già negli anni scorsi ed è riservato a chi in sostanza acquista degli strumenti musicali che permette di avere uno sconto sul prezzo di acquisto. Quindi era un bonus che c'era appunto come ti ho detto già negli anni scorsi. Le risorse sono state un po' diminuite rispetto all'anno scorso, nel senso che è stato prorogato anche per il 2018, ma le risorse stanziate dallo Stato sono di 10 milioni di euro per finanziare questo bonus contro i 15 milioni di euro che c'erano l'anno scorso, che erano state stanziate l'anno scorso. Ad ogni modo in cosa consiste questo bonus? Come ti ho accennato prima si tratta di un bonus riservato agli studenti dei conservatori, dei licei musicali o comunque di quei centri di formazione relativi alla musica che acquistano un strumento musicale nuovo nel corso del 2018 e lo sconto che viene applicato sull'acquisto che viene fatto dello strumento musicale solo una volta all'anno, quindi questo vale per un solo strumento all'anno, è del 65% fino a un limite di 2.500 euro di sconto. Quindi facciamo un esempio, prendi uno strumento musicale di 1.000 euro, un prezzo di 1.000 euro, in realtà lo sconto che ti verrà applicato sarà del 65%, in pratica ti costerà solo 350 euro. Lo sconto è immediato quando vai a comprare lo strumento, basta presentarsi con un certificato di iscrizione presso il liceo o la scuola di formazione che frequenti, la scuola musicale che frequenti e il rivenditore ti applicherà immediatamente lo sconto del 65% fino a un massimo di sconto appunto come ti ho detto di 2.500 euro. Poi come funziona per quanto riguarda il rivenditore? Quindi se sei invece un rivenditore di strumenti musicali e mi stai ascoltando, devi sapere che applichi immediatamente questo sconto, ma questi soldi ovviamente non sono persi, ma avrai la possibilità di utilizzare questo sconto che hai applicato in compensazione con i versamenti che dovrai fare per imposte o contributi relativi alla tua posizione personale. Bene, questa è una novità di cui ti volevo parlare oggi. Ovviamente se hai delle domande postale pure nei commenti, sono ovviamente a tua completa disposizione, sia che tu veda questo video sulla nostra pagina Facebook, sia sul nostro canale YouTube, che ti invito ad andare a visionare, a iscriverti per vedere anche i video passati sulle novità dell'ultima legge finanziaria. Con oggi è veramente tutto, ti do appuntamento alla prossima puntata sulle novità introdotte dall'ultima legge finanziaria. Ciao, alla prossima!